Di più, di più! Adesso facciamo questo e poi mettiamo anche i bracciali. Allora ragazzi, tutto bene? Noi siamo qui per fare una serata, per divertirci, per divertirvi. Per noi è sempre un appuntamento importante perché questo è il momento di comunione, in cui voi restituite a noi quello che noi abbiamo cercato di darvi prima. Quindi è una cosa sempre importante e vi ringrazio per tutto quello che avete fatto, per tutto quello che gli avete dato.